Per me oggi è una bellissima opportunità essere qui nel Rio Grande do Sul, è una zona popolatissima da italiani ma soprattutto da Veneti. I Veneti sono arrivati qui e nell'arco di più di un secolo hanno trasformato questo territorio che è diventato un pezzo d'Italia nel cuore del Brasile. È la zona più importante in produzione vinicola del Brasile, ormai i vini prodotti in Brasile portano tutti dei nomi Veneti, siamo qui oggi in un posto molto significativo che è la proprietà di Dal Pizzol che è uno dei produttori che dal nome tradisce chiaramente le origini venete. È una bellissima esperienza perché dimostra come le comunità venete arrivate qui alla fine dell'Ottocento si sono integrate, hanno trasformato il territorio e hanno reso questa zona particolarmente produttiva che è diventata un orgoglio certamente del Brasile ma che per noi italiani è anche un orgoglio vedere come i nostri connazionali sono venuti qui e hanno saputo con grande fatica a fermarsi, a trasformare questo territorio e a creare ricchezza in questo paese. Grazie. 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 Grazie.